Allora siamo venuti con un nuovo video con un album dei Pizzamax 200 adesivi questi sono la parte dei buoni Gattoboy, Guffetta e Gekko, questa è la parte dei cattivi Lunetta, Romeo e Ninja della Notte, Mini Ninja Ecco la parte di Gattoboy e Connor, questa è la parte di Gekko e Greg, questa è la parte di Guffetta ed è Amaya Adesso attacchiamo un po' di stickers, io e mio fratello Ciao 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 Adesso attacchiamo un po' di stickers Ciao 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 Ciao